...percepita, sempre poco percepita, perché una ragazza non sa se è lei da fronte di un'unico stupro che si verifica in un paese. Noi dobbiamo fare in modo che le nostre ragazze, le nostre moglie, possano circolare in assoluta certezza, perché è un loro diritto innanzitutto. Perché quello che dico io, purtroppo, se mi rubano un Rolex lo posso ricomprare, ma chi subisce una violenza, perché le persone devono recuperare più il dramma che ha subito. C'è qualche cosa in più che chiede di che servo gli interni, Presidente? Ma guarda, io avevo chiesto sicuramente di rimettere all'interno dei pronto soccorsi dei posti di polizia.